Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio illustrare un Karateka di fama internazionale, veramente, veramente preparato. Voi direte, è classico giapponese? No, stavolta ho tirato fuori un soggetto non giapponese, un neozelandese. Magari avete già capito di chi sto parlando, ma ve lo illustro più avanti. Seguitemi. Prima di parlarvi di questo fenomeno, voglio fare un salto indietro e parlarvi da chi ha studiato questo personaggio. Voglio parlarvi del grande sensei Asai. Vi lascio il link in descrizione perché ho già fatto una piccola illustrazione su di lui tra tantissimi grandi maestri in un video precedente. Non basta un video per illustrare il grande sensei Asai. Un grandissimo, io diciamo personalmente lo metto tra i più grandi Karateka al mondo. Mi azzardo a dirlo, non me la vedete a male se avete qualche altra simpatia, ma secondo me è tra i primi sulle dita grandissimi Karateka al mondo. Purtroppo non è più in vita il maestro, ma è veramente fantastico. Ho intitolato questo video oltre lo Shotokan perché secondo me il grande sensei Asai è andato oltre. Aveva questo modo di combattere, queste tecniche di pugno, di braccia, braccia con le fruste, queste frustate, questi attacchi molto fantasiosi e vincenti sull'avversario, uniche solo di lui, cioè solo lui faceva questo tipo di tecniche. Il grande Nakayama lo illustrava come un genio, mentre gli altri all'interno della vecchia GKa lo prendevano un po' in giro per questo suo modo che andava oltre i combattimenti, il grande Nakayama era l'unico che capiva l'importanza di questa evoluzione del Karate Shotoka. Di Asai si può parlare tantissimo, mi ripeto non basta un video, lui addirittura si allenava tutte le mattine al Makyuwara, voi direte cosa c'è di strano? No, di strano è che lui addirittura quando faceva gli stage internazionali aveva un Makyuwara portatile, pensate un po', aveva un Makyuwara portatile e dove era era si allenava. E poi le sue tecniche vincenti un po' trascurate dal Karate sportivo, qui il pugno Nakadaka Ken, tecniche Seriuto, Kakuto, Kumade, il Vashide, cioè tecniche veramente un po' inusuali dal Karate sportivo. Tra l'altro lui non è che era molto amante del Karate sportivo, diceva che praticamente sia nel Katà che nel Kumite non andava più bene fare questo tipo di combattimento, quindi aveva tutta una sua filosofia molto molto tradizionale e quindi Mari al passo dei tempi della vecchia JKA non andava molto in sincronia, aveva tutto un suo modo. E poi il resto è storia, ma non è il soggetto di cui vi voglio parlare oggi, ma voglio parlare di qualcun altro non Made in Japan che l'ha seguito per diversi anni e sembra quasi la sua fotocopia. Seguitemi. Oltre lo Shotokan, André Bertel, un fenomeno, uno, se mi permettete, uno tra i miei preferiti, un giovane Karateka veramente, veramente preparatissimo. Lui vive a Oita, Oita City, l'isola di Kyushu, si è trasferito là da diversi anni e per degli anni ha imparato e andava a lezione personale, a lezione individuale dal maestro a Zai. Ha imparato molto da lui, ha imparato questo metodo di far combattimento tipico del Sensei, un modo eccezionale fuori dalle righe del classico Shotokan. E si vedono i risultati. Io paragono la sua sequenza di pugni, il suono sembra quasi quasi una mitragliatrice. veramente una velocità fotonica, una velocità fuori dal normale, una potenza unica. E poi la sua elasticità di gambe, interpretazioni dei kata, velocità di esecuzione. È un atleta veramente, veramente completo. Poi ha un trascorso importante, 17 volte campione della Nuova Zelanda, unico non giapponese a vincere i campionati nella prefettura di Kumamoto nella sezione kata. E poi, studente, come ho detto, personale di a Zai e ex guardia del corpo di VIP, di personaggi. Quindi ha anche un trascorso di guardia del corpo e agente personale di personaggi importanti. Comunque, lasciando stare questo trascorso agonistico o no, o professionale, fuori dal tatami, è veramente un campione. Lui ha un segreto particolare di come riesce ad allenarsi, cioè perché, a parte le doti fisiche e naturali che ha, come fa questo ragazzo, questo giovane karateka attuale, ad avere queste flessibilità e questi allenamenti impeccabili. Ve lo illustro. Tel si allena regolarmente in Giappone dal 1993. Ha un dojo tutto suo, addirittura con spazi all'aperto. Tra l'altro mi piace tanto perché mi ricorda molto il mio dojo, che ho molti allenamenti all'aperto, riesco a fare d'estate e in primavera. Chiudiamo la parentesi. E organizza dei seminari internazionali, cioè lui va all'estero per fare questi seminari internazionali, lui dice che cosa c'è di strano, lo fanno tutti. Sì, però ha anche un'ottima organizzazione dove far arrivare le persone nel suo dojo, dargli anche un discorso di ospitalità e di tour guidati nell'isola. Quindi un soggetto molto intelligente che riesce ad abbinare karate e viaggi allo stesso tempo. Il suo punto di forza secondo me che conosce bene la mentalità asiatica è quella occidentale e riesce ad unirle in maniera intelligente. Chi ha fatto viaggi da lui, lo descrivo come un ragazzo poi praticamente molto cordiale, amichevole anche al di fuori del dojo, cioè un classico maestrone tra virgolette, ma poi alla fine un amico di compagnia anche fuori dal dojo, dopo cena si beve anche una birretta con gli amici, quindi un soggetto particolare, però dentro al tatami non fa sconti, non c'è tanto da scherzare perché è veramente veramente potente. Ha un metodo, vi dicevo, intelligente di allenarsi, cioè lui cosa fa? Si autoregistra durante fa gli allenamenti e poi fa un'autocritica a ralenti per vedere i suoi movimenti se sono veramente perfetti e se rimane nello standard di quello che gli ha insegnato Asai. Chiaramente il Sensei Asai poi non è che ha creato solo lui come discepolo, lui sembra quasi una sua fotocopia, ma ci sono tanti altri personaggi, Kagawa, Yamaguchi, c'è tanti altri personaggi che hanno un fortissimo seguito del Sensei Asai, ma per te veramente mi è rimasto nel cuore un po', devo dire la verità, mi impressiona veramente tanto. Ci sta che il prossimo viaggio che faccio a Okinawa, non mi fermo solo a Okinawa, ma vado anche nell'isola di Kyushu perché devo per forza andare a conoscere questo soggetto perché mi piace veramente tanto tanto. Arriviamo alle conclusioni del video. Nel 2016 fa un tour in Italia, a Venezia, fortunato chi c'era, veramente un'occasione da non perdere. Poi come vi ho detto prima, Sudafrica, Germania, cioè lui gira veramente tutto il mondo, tutti lo invitano perché è veramente un soggetto. È particolare perché quando fa gli stage fa molto show, ma non fa molto fumo, cioè lui veramente è uno che ci dà dentro, però gli piace fare anche il soggetto e è una cosa anche accattivante e piace molto alle persone. Siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi, spero vi sia piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Oggi come vedete sono in un'area nuova, provo a fare dei video anche all'aperto, profitto della bella stagione, seguitevi, iscrivetevi al canale, lasciate il like e dei commenti sempre positivi. Ciao dal Tempio Massimo, al prossimo video.